Atto vandalico a Capaccio Pestum in località Gromola, dove ignoti hanno sfregiato con un pennarello la lapide in marmo raffigurante Salvatore Apadula, noto sportivo capacese scomparso nel 1984. Ferma la condanna del gesto da parte dell'amministrazione comunale, che per bocca dell'assessore allo sport Franco Sica, parla di gesto vile che offende la memoria di un grande uomo, esempio di vita per i suoi valori morali e sportivi, che sicuramente non appartengono a chi ha sfregiato la lapide con un pennarello. Ci siamo già attivati, prosegue Sica insieme all'associazione che organizza il premio Salvatore Apadula, contattando una ditta specializzata che provvederà già nelle prossime ore a rimuovere tale scempio.